L'essere dell'ente non è esso stesso un ente. Così scrive Martin Heidegger nel 1927 nel suo capolavoro filosofico Essere e Tempo e in particolare nel capitolo 2, programmaticamente intitolato La struttura formale del problema dell'essere. In questo capitolo, come sappiamo, Heidegger delinea i tratti fondamentali della sua ricerca, mostrando come la questione dell'essere, seins frage, sia il fondamento stesso della sua ricerca. La questione dell'essere è precipitata in un grande oblio e occorre oggi riproporla, dice Heidegger, ma per riproporla occorre interrogare quell'unico ente per il quale l'essere sia un problema, l'unico ente cioè che sappia porsi la seins frage, la questione dell'essere. Tale ente è l'uomo, l'esserci, quell'ente nel cui essere ne va di se stesso. Ecco perché Essere e Tempo è stato così a lungo equivocato, perché appunto per giungere alla questione dell'essere percorre la via lunga dell'analitica esistenziale con la quale interroga l'esserci stesso, dove però l'obiettivo non è un esistenzialismo, come spesso è stato interpretato equivocando Essere e Tempo, ma invece l'obiettivo è la questione dell'essere, rispetto alla quale la via lunga dell'analitica esistenziale è solo un mezzo. Ora, quando Heidegger svolge la considerazione prima letta come introduzione, come citazione, sta di fatto mettendo a tema quella che egli stesso altrove chiama la differenza ontologica. Differenza ontologica scaturente dal fatto che vi è una ontologica differenza irriducibile fra l'essere e gli enti. L'essere potremmo dire l'orizzonte nel quale e mediante il cui ritrarsi si danno gli enti. L'oblio dell'essere in cui è precipitato il pensiero metafisico, e in cui noi stessi ci troviamo, a dire di Heidegger, scaturisce esattamente dalla enticizzazione dell'essere, ovvero sia dalla perdita di questa differenza ontologica con annessa riduzione dell'essere a ente. Ovvero sia abbiamo dimenticato l'essere, si è prodotta la Seins Fergessenite, l'oblio dell'essere, nella misura in cui abbiamo perso di vista la differenza ontologica fra l'essere e gli enti, e abbiamo finito per intendere l'essere stesso alla stregua di un ente, l'abbiamo enticizzato. Per questo Heidegger nel tessuto filosofico di essere e tempo distingue tra l'aggettivo ontologico e quello ontico. Ontologico è ciò che pertiene all'essere, ontico è invece ciò che pertiene all'ente. E l'intera avventura storico-filosofico occidentale si fonda sull'oblio dell'essere come oblio della differenza ontologica, ovvero sia come oblio della differenza incolmabile tra essere ed ente. Oblio dell'essere significa dunque, ancora una volta, e sarà il tema portante di tutta la ricerca storico-filosofica e teoretica di Heidegger, significa perdita dell'essere a favore dell'ente. L'ente diventa, come dire, l'unica realtà esistente e finiamo per concepire l'essere stesso alla stregua di un qualsiasi ente, inciosi dal compimento massimo dell'oblio dell'essere. Seins Fergessenite. Grazie a tutti.